Buongiorno, ogni mattina all'isola d'Elba mi sveglio così con questa fantastica vista. Oggi faccio un vlog. Scusate, stanno mettendo internet nella casa. Si sentite dei rumori. Non fate a casa i miei capelli, ho queste treccine da una settimana. Comunque vi porto in un posto che se riusciamo ad arrivarci è una figata pazzesca. Allora, ci stiamo recando in questa località molto figa. E devo dire che anche girando un po' in macchina così sto apprezzando moltissimo l'isola d'Elba. Allora, ci siamo ritrovati qui. Per questo è un posto super sperduto, quindi non so. Non so se capiremo come arrivarci. Comunque in questo momento siamo qui. Ok, in sostanza dobbiamo andarci a piedi. Comunque guardate che bello, che meraviglia. Cioè, veramente stupenda l'isola d'Elba, raga. Comunque abbiamo parcheggiato lì a Pinchessa e adesso si va a piedi, credo, da questo sentiero. Ok, avevamo già sbagliato. Si va da qua. Comunque lo dico che quando la natura è così figa, secondo me è pure meglio del resort a 5 stelle. L'ho detto. Ecco ragazzi, siamo arrivati. Questo è la spiaggia di Terra Nera. E adesso andiamo a cercare il laghetto che è laggiù. Ecco, ci siamo quasi al laghetto. Niente, ogni metro che faccio è sempre più bello. Allora, questo è il laghetto di Terra Nera. E quello è il mare. Capito? C'è da una parte il mare, dall'altra il laghetto. Adoro. Bene, io sono qui tra i cespugli. E come nelle migliori storie horror, il telefono non prende. Comunque per arrivare qui bisogna arrampicarsi su queste rocce. E però io da brava scalatrice sociale ce l'ho fatta. Sto facendo il bagno nel lago perché nel mare ho visto una medusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, devo fare un discorso importantissimo. Premetto che non sono propriamente in uno stato di sobrietà. Non ridere. Allora, non sono in uno stato di sobrietà perché ho bevuto questa birra rossa dell'Elba, artigianale e super strong. Però voglio far notare che io amo, a me piace molto la birra, non mi piace tanto il vino ma mi piace molto la birra. Però solo quella strong, tipo la Tennant o quelle lì strong. Però meglio se sono artigianali. Mentre Anfi beve la birretta del cazzo, tipo quella all'amoretti, così che sembrano acqua. È come bere acqua. Io non bevo quelle birre lì, perché come bere acqua io bevo la birra da vero maschio alfa. Mentre Anfi beve le birre da maschio beta. Infatti stasera io ho bevuto la birra rossa super strong e Anfi ha bevuto la birretta bionda da maschio beta. Quindi chi è qui il vero maschio alfa? Rispondi. Oh. Tu. Ah, infatti io bevo la birra da vero maschio alfa. Non le birrette da maschio beta che bevi tu. Oh. 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 Grazie a tutti.